Benvenute e benvenuti sul podcast del T quotidiano. Oggi vi proponiamo la rubrica di approfondimento dedicata alla conoscenza dell'orso e del progetto che l'ho visto reintrodurre. Particolari focus informativi saranno dedicati alle abitudini del plantigrado, alla dislocazione agli spostamenti sul territorio trentino e alle regole da rispettare quando si frequenta il bosco quando lo si incontra. Protagonista della rassegna Alessandro De Guelmi, ex veterinario provinciale e grande esperto di fauna selvatica. Buon ascolto. Terza puntata del podcast informativo del T quotidiano sul tema degli orsi. Alessandro ora entriamo in una parte del discorso che sicuramente ha a che fare anche con il tuo lavoro però magari esula un po' da quelle che sarebbero le tue competenze primarie però ti chiedo comunque di aiutarci a capire meglio ovvero volevamo fare un approfondimento su quelle che sono le normative che che concernano la gestione dell'orso in trentino e la più importante è il pacobace. Se ti dovessi chiedere che cos'è il pacobace come mi rispondi? Non è, io sono un veterinario, sono abituato a toccarli gli animali, dal punto di vista legale mi trovo un po' non è il mio campo. Comunque il pacobace è un piano d'azione per la gestione dell'orso nell'arco alpino nord occidentale e è stato creato dai migliori tecnici penso a livello europeo condiviso con non solo la provincia di Trento ma è stato condiviso con le province limitrofe. Direi che allora è stato fatto veramente un ottimo lavoro. Con quanto è successo agli occhi di questo momento qua chiaramente si dovrebbero fare a quel pacobace alcune modifiche perché ovviamente dopo più di vent'anni ha perso un po' di attualità. Hai qualche idea precisa da questo punto di vista? Io credo che bisognerebbe avere la possibilità attraverso il pacobace, non si capisce, io non riesco a capire se questo pacobace è realmente un atto giuridico nel quale un ente, una persona deve attenersi o può attenersi. Se è un atto giuridico dovrebbe attenersi di conseguenza dovremmo essere obbligati a seguirlo. Credo che sia ancora le linee guida migliori per poter gestire in modo serio la popolazione degli orsi in provincia di Trento. Di pacobace se ne parla sempre quando poi c'è un episodio magari con un orso che si dimostra pericoloso, aggressivo e se ne parla all'interno delle azioni di rimozione dell'animale ma in realtà il pacobace indicherebbe tutta un'altra serie di cose che bisognerebbe fare per una corretta gestione della popolazione ursina del Trentino. Certamente il pacobace dà tutta una gradualità di interventi da mettere in atto a seconda del comportamento appunto dell'orso sul nostro territorio. Però arriviamo sempre alla logica dell'abbattimento. Gestire la popolazione degli orsi non vuol dire solamente abbatterli ma vuol dire mettere in atto tutte quelle attività di prevenzione, di ricerca, di informazione che potrebbero ridurre il rischio di attacchi di questi animali e anche alle persone. Ecco, parlando in particolare degli orsi confidenti, gli orsi che ogni tanto si avvicinano ai paesi, in cerca di fonti di cibo, magari perché altre volte li hanno trovati, mi dicevano altri zoologi con cui abbiamo parlato, bisognerebbe avere su di loro dei radiocollari in modo da poter effettuare una dissuasione efficace quando si avvicinano ai paesi. Da questo punto di vista adesso siamo, queste sono indicazioni che sono presenti nel pacobace ma forse che non sono state eseguite alla lettera dalla provincia in questi anni. Ma il monitoraggio è uno strumento indispensabile per avere le conoscenze, per gestire di questo animale. È importantissimo monitorare e perciò mettere radiocollare ad animali confidenti o problematici in modo da poter intervenire con attività di dissuasione. Nel momento in cui questi animali, visto che il satellite ci dà la posizione veramente istantanea di questi animali, nel momento in cui si stanno avvicinando a dei centri evitati si può fare attività di dissuasione, vuol dire con delle luci, sparare dei proiettili di gomma o farli spaventare dei cani anti-orso e cercare di farli cambiare abitudine. Qualche volta su soggetti giovani questo può riuscire, però chiaramente bisogna togliere anche dell'ambiente il motivo per il quale l'orso si stava avvicinando. La prima novità normativa nella gestione dell'orso arriva nel 2018 con la legge 9, quella promulgata dall'ex presidente della provincia, Ugo Rossi, poco prima del suo mandato, una legge che prevede appunto questo percorso qua per la rimozione degli orsi problematici, chiedendo un parere a Ispra che è obbligatorio richiedere ma il cui esito non è poi vincolante alla decisione della provincia. Ai tempi tu quando hai visto questa norma cosa hai pensato e cosa ne pensi anche oggi? No, tuttora e come allora pensavo che è una normativa estremamente giusta, nel senso che ritengo, ma tutti i tecnici a livello europeo ritengono che l'abbattimento legale, ripeto legale, di questi soggetti, cioè quando un ente tecnico qualificato dichiara che questo animale è pericoloso, l'abbattimento legale di questi soggetti è uno degli strumenti più importanti per la salvaguarda della sicurezza delle persone e della popolazione degli orsi in generale. perché se noi riusciamo ad abbattere questi soggetti nel miglior tempo possibile, più velocemente possibile, in base a questo le persone si sentono più rassicurate sapendo che l'ente pubblico interviene immediatamente su questi animali che possono essere problematici. Non bisogna però dimenticare che a monte va fatto tutto quanto sia possibile per evitare che questi animali diventino confidenti, problematici e poi pericolosi. Dall'era Rossi all'era Fugatti, l'attuale presidente ha messo più volte mano a questa legge introducendo elementi che poi ha tolto, per esempio aveva a un certo punto introdotto l'elemento che non era più necessario chiedere il parere a Ispra, poi questo lo ha rimosso. L'ultima versione, l'ultima novità diciamo che ha inserito per legge è basata sullo studio fatto da Ispra sulla demografia, sulla stato di salute della popolazione degli orsi del Trentino e che possono essere abbattuti massimo otto orsi l'anno, specificando non più di due femmine riproduttive, non più di due femmine subadulte. Cosa ne pensi di questa novità normativa che è stata inserita all'interno della legge 9 di Ugo Rossi? Ma ritengo che non c'era bisogno di farla dal punto di vista proprio di esecutivo, ripeto che l'orso problematico deve essere abbattuto immediatamente, la legge Rossi consentiva di fare questo, di fatto la KJ2 è stata abbattuta, è stato fatto anche delle denunce, è stato fatto un processo e sia il dirigente del servizio faunistico sia l'assessore sono stati assolti, perciò credo che l'ultima legge Fugati abbia fatto confusione fra la sicurezza delle persone e la gestione faunistica della popolazione degli orsi, sono due cose che andrebbero viste in modo separato, ma per assurdo, se noi avessimo 12 orsi pericolosi cosa facciamo? Ne abbattiamo 8 e gli altri 4 li lasciamo andare? Veramente non ha nessun senso, io credo che la sicurezza delle persone sia prioritaria a qualsiasi attività faunistica, applicata seriamente la normativa di abbattere gli orsi pericolosi e ripeto, però non dobbiamo assolutamente, prima di pensare all'abbattimento, bisogna fare tutte quelle attività che impediscono all'orso di diventare confidente e pericoloso. Questa è la base della gestione faunistica di una popolazione di orsi e credo che questo non si è fatto in modo opportuno. Grazie Alessandro, finisce qui questa terza puntata in cui abbiamo provato a portarvi un po' più all'interno che dei cavilli giuridici, che però poi sono materia viva quando si fa gestione faunistica. Torniamo per la prossima puntata in cui affronteremo ancora il tema degli orsi in Trentino. Grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.